5 metri più in su 1 2 3 patatini se venivano due giorni più tardi erano veramente belli però qua c'è sempre un sacco di gente e se non se non li faccio adesso secondo me secondo me non li trovo più a dopo dopo un altro etto di cammino tutto la sassuola una zona bella però tagliata mi hanno tagliato anche il mio porcino vedete è stato tagliato proprio con tagliaerba era un bel porcino mannaggia mannaggia cosa combinano queste a dopo adesso caviamo questi due belli patatoni che croc quest'altro è bello pure questo primo il statino il secondo con un altro piccolo a fianco a dopo signore e signori ore sette e un quarto dopo un'ora e mezza di cammino altri due bocciolotti però questi qua li ho trovati io e li voglio dedicare a Marco di Ritma 62 un altro cercatore appassionato di questi porcini meravigliosi ti piacciono Marco alla prossima grazie a tutti